Eccoci qui ragazzi, buon venerdì, buon pranzo per chi si sta mettendo a tavola Allora, allora ragazzi, notizia intanto dell'ultima ora che veramente fa una notizia scandalosa Atalanta-Cerentina si recupererà a giugno ragazzi, è campionato chiuso Quindi, ditemi voi se è una cosa regolare, perché chiaramente adesso l'Atalanta c'è la finale di Coppa Italia domenica, mercoledì Mercoledì dopo c'è la finale di Conferenza della Fiorentina, il mercoledì ancora dopo c'è la finale di Europa League all'Atalanta E quindi non ci sono date disponibili e se giocherà a giugno, cioè ditemi voi se è una cosa regolare Sarebbe bastato che al momento in cui c'è stato questo rinvio di questa partita avrebbero invertito le date Nel senso, avrebbero fatto giocare alla data della finale di Coppa Italia mercoledì, su questo recupero La finale di Coppa Italia avrebbero fatto giocare a fine campionato, che non succede nulla Ma siccome il calcio italiano è il calcio italiano corrotto e marcio, queste cose chiaramente non le prendo neanche in considerazione Io ragazzi rimango veramente schifato da questo sistema calcio italiano che comunque è sempre più marcio, sempre più corrotto E mi domando se ancora c'è senso vedere le partite, perché è una cosa veramente vergognosa Ma questo è così, non ci possiamo fare niente La Roma chiaramente non è per colpa del rinvio di questa partita che magari la Roma non va in Champions League Per carità di Dio, io parlo solo della regolarità dei campionati Io mi domando se il recupero l'avessero giocato due squadre per dirvi che lotta per la salvezza E magari a fine campionato queste due squadre, a cui mancava questa partita e giocavano uno contro l'altro Se con il pareggio si salvavano tutte e due al 100% in maniera matematica a discapito di un'altra squadra Che avrebbero fatto queste a fine campionato? Avrebbero giocato alla morte o avrebbero fatto 0-0 per salvarsi? Cioè capite ragazzi che qui la situazione è veramente, veramente, veramente allucinante Ma noi siamo più forti di tutto, come sempre ragazzi, lo sappiamo Noi tifosi romanisti, la Roma deve lottare sempre contro tutte e tutti, anche cose esterne Vinciamo a Bergamo, vinciamo le ultime tre partite e ce ne andiamo in Champions lo stesso Da quinti alla faccia di questi corrotti e questi dirigenti, diciamo, di Lega e Federcalcio Veramente inadeguati Chiusa parentesi ragazzi, oggi volevo parlare e tornare e poi la chiudiamo sulla partita di ieri Se c'è una cosa che questa partita contro il Leverkusen, che possiamo sicuramente definire come Una squadra che avrebbe potuto benissimo giocarsi anche la Champions quest'anno, secondo me Anche perché se non lo vedete in Champions nella finale c'è arrivato il Borussia Dortmund E questi al Borussia Dortmund hanno dato 15 punti in campionato Per cui ragazzi avrebbero benissimo potuto raggiungere anche una finale dei Champions questi Però se questa partita ci ha detto una cosa fondamentale Ci ha fatto capire veramente in casa Roma quali sono quei calciatori Su cui poter puntare l'anno prossimo per la ricostruzione vera e propria con De Rossi Visto che lui è arrivato a gennaio praticamente E quest'estate sarà lui che farà il mercato, sarà lui che farà preparazione Quindi possiamo definire un anno zero quello che sta per incominciare l'anno prossimo E quindi tocca vedere su chi puoi contare veramente E su chi devi dare un carcio e un culo e manda via Perché sono giocatori, vuoi scarsi tecnicamente, vuoi scarsi mentalmente Vuoi problematici dal punto di vista fisico Per cui possiamo fin da adesso capire se vuoi stare a certi livelli E battere un Bayern Leverkusen Su chi puoi puntare e su chi no Questo è il succo del discorso Ed è chiaro che noi nella rosa attuale ragazzi secondo me Dei giocatori validi veramente di un certo livello Su cui puoi puntare anche da un punto di vista del carattere, dell'atteggiamento, della grinta Oltre che tecnico e tattico sono veramente pochi ragazzi Detto che Svillar ormai è una certezza E l'uscita a voto di ieri chiaramente mi dispiace Ma lì c'è stata una concomitanza veramente di sfiga ragazzi Perché in fin dei conti l'uscita di Svillar a voto non aveva accusato nessun problema alla Roma Il problema è stato Mancini che si ritrova dalla palla addosso Mancini se fosse stata un'altra posizione del campo Quella palla sarebbe andata sul fondo e non sarebbe successo nulla Per cui non è diverso il mio giudizio su Svillar Che da quale è diventato il titolare della Roma È stato fondamentale per questa squadra Per portare punti e sicurezza alla difesa Toccherà prendere un secondo portiere di esperienza Perché lui Patricio saluterà dopo tre anni Detto questo ragazzi lo sapevo benissimo Qual è il problema più importante della Roma Le fasce laterali Le fasce laterali Allora detto che Christensen tornerà all'Izze da fine prestito Detto che Spinazzola non rinnoverà e andrà via a zero E meno male visto che può fare una partita sola ogni tanto Perché sennò poi si stira E ieri poi De Rossi ha dovuto cambiare Praticamente assetto tattico a tutta la squadra Con l'uscita di Spinazzola La Roma si ritrova con dei terzini ragazzi Che purtroppo non sono all'altezza Specialmente a destra dove abbiamo due morti Come Kasdrop e Celic Io penso che Debbano andare via tutte e due Perché non sono giocatori all'altezza di Roma E quindi devi prendere un terzino destro Veramente importante E magari un giovane da affiancargli E dall'altra parte Chiaramente c'è il solo Angeligno Che verrà valutato il suo riscatto Ma che sicuramente non può essere il titolare della Roma Quindi tu già puoi contare su delle fasce Che devi comprare due titolari In difesa ragazzi In teoria sei coperto Perché comunque C'hai Mancini e Indica Che comunque hanno dimostrato di poter fare i titolari E sono due giocatori che stanno a fare bene quest'anno Per cui Li puoi anche confermare benissimo Con Panchinari, Smalling e con Bulla E qui già arrivano i dolori Perché Smalling non ti garantisce una forma fisica Continuativa Vista l'età E visto insomma i problemi che c'è avuto quest'anno E con Bulla è totalmente inadeguato secondo me Quindi Almeno un difensore tu lo dovresti prendere E ti serve un difensore veloce Perché tutti i difensori piazzati Che sono poco veloci E ti serve un difensore veloce Se vuoi integrare bene La difesa Con un difensore forte Come Mancini o Indica E uno più veloce Quindi Già qui ragazzi Dobbiamo prendere Almeno Un secondo portiere Un terzino sinistro Titolare con Angeligno Riserva Di là due terzini testi Già stiamo a cinque giocatori Vi dico solo questo A centrocampo Chiaramente tu puoi contare soltanto su quei tre Che giocano sempre Guarda di Paredes, Cristante e Pellegrini Il problema qual è? E che se tu hai Un Regista a basso come Paredes Che è tecnicamente valido Ma che è un po' lento e compassato Chiaramente Vicino a lui A centrocampo Non gli puoi mettere Altri due giocatori Lenti e compassati Come Cristante Soprattutto e Pellegrini Ti servono due centrocampisti Dinamici Due centrocampisti Che fanno densità In mezzo al campo Ti servirebbe Un Barella Che veramente È un cagnaccio In mezzo al campo E ti servirebbe Un giocatore Alla Mkhitaryan Che è uno Che fa Il doppio lavoro Centrocampo E attacco Che sa inserirsi Sulla tre quarti Che sa saltare l'uomo E che ti può andare A la conclusione Cosa che purtroppo La Roma Ad oggi Non ha L'ha detto anche De Rossi Nelle sue conferenze stampa Non abbiamo calciatori Che saltano l'uomo E ci servono quelli Per il gioco Che fa De Rossi Per cui Io terrei Questi tre E chiaramente Darei via A War Che non ha convinto Renato Sanchez E fine prestito Terrei Bove Come Diciamo Riserva Ma te servono Altri due centrocampisti De qualità C'è poco da fare Ragazzi Questa è la realtà Di fatti Per cui io Terrei soltanto I tre Anche Bove Se va sul mercato E c'è un'offerta Lo venderei Ragazzi Parlamoci chiaro Bove è un bravissimo ragazzo Un grande professionista Ma tecnicamente È un giocatore Modesto Che non può giocare A certi livelli Questa è la realtà Di fatti E comunque Devi integrare Parecchio Pesantemente A centrocamp Almeno due giocatori Io ripeto Per me Paredes e Cristante Non può non giocare insieme Ragazzi Io questo Io la vedo così Per l'attacco Ragazzi E Shalawi Si è guadagnato La sua Permanenza Perché comunque È un giocatore Che dà tutto in campo E può sicuramente Ancora dare tanto Baldanzi È un giovane Che sicuramente Con un anno in più Sulle spalle L'anno prossimo Potrà far meglio Di Bala Chiaramente Ce lo teniamo Perché è il nostro Miglior giocatore Nonostante Abbia ogni tanto Qualcacciacco fisico Farà il suo ultimo Anno di contratto A Roma Ma ce lo teniamo Ben stretto Penso Chiaramente Ragazzi Giocatori come Zaleschi Va venduto Perché è totalmente Inaffidabile Totalmente Inadeguato Lukaku Tornerà A Cezzi Per fine prestito Perché 40 milioni Per un bradipo Che ho visto Ieri sera Non ci rispendo A Zmun Anche Se ne può andare A fanculo Lì all'Everkusen Chiaramente Tornerà Belotti Dalla Gerentina Ti ritrovi Con Belotti Ed Abram Ragazzi E io niente Io Vi dico La sincera verità Farei cassa Con tutte e due E comprerai Un centravanti Forte Veramente forte E un giovane Daffiancaie Alla Marcos Leonardo Per dirvi Per costruire Un attacco Più prolifico Ecco Poi dipenderà Anche Da come vorrà Giocare De Rossi Dalla nostra Qualificazione In Champions Che quello Sposterà Gli equilibri Ragazzi In moto Molto molto Pesante Sul mercato Perché senza I soldi Dalla Champions Purtroppo Insomma Capite bene Che la Roma Non potrà investire Più di tanto Nei giorni scorsi Si è parlato Di un Castrovilli Che potrebbe Arrivare a Roma A zero Dalla Fiorentina Se dovesse Superare le visite mediche Non so quanto sia Fattibile Sta verità Giocatore Che sono due anni Che non gioca Perché è sempre Infortunato Ragazzi Io Cioè Se devo prendere Un altro canchero Non lo so Io ragazzi Però Questa È la situazione Della Roma Per cui Chi deve rimanere Svillar Mancini Indica Paredes Cristante Pellegrini E Sciarawi Baldanzi E Di Bala Ragazzi Sono nove giocatori Sono nove giocatori Cioè La Roma Con tutta la rosa Che ha Secondo me Può contare Su nove giocatori Capite bene Che Bisogna investire Parecchio E comunque Ave gente competente Che sa andare Sul mercato Per riperire Gente Valida Anche giovani Poi I conti Li faremo A fine stagione E valuteremo Tutto in maniera Più Magari Più Più Specifiche Però Questo Al momento Quello che penso Io Ragazzi Mi sono Dilenguato Un po' Troppo 13 minuti Di video Ragazzi Abate pazienza Però Volevo dirvi Questa cosa Perché me lo Levavo A che Stassolino Dalla scarpa Oggi Perché Giocatori come Abram Come Azmun Come Kasrop Come Celic Come Zaleski Renato Sanchez Aguar Kumbulla Ragazzi Io non li voglio Rui Patrizio Non li voglio più Vedere Non li voglio più Vedere Questa è la realtà Di fatti Ragazzi Fatemi sapere Cosa ne pensate Del video Scrivetevi al canale Tanti like Commentate Domani Che è Sabato Faremo l'anteprima Di Atalanta Roma Partita fondamentale Per il campionato Per adesso Vi saluto Vi auguro Un buon pomeriggio E sempre Sempre Forza Roma Grazie